ciao a tutti ciao a tutti benvenuti benvenuti a una nuova e spesso condivido lo schermo ok esatto iniziamo qui appena appena ci sono cose interessanti possiamo parlare già potremmo fermare qua perché chiaramente questa qui è una dei dei punti sui punti del gdpr mi farebbe qualche dubbio però c'è da dire che loro si sono posizionati i dreams poi lo abbiamo io lo abbiamo scoperto dopo perché quando si sono confrontati io non li conoscevo loro sono posizionati capovolgono facciamo già uno spoiler capovolgono una cosa che le persone hanno imparato navigando questo sito ma anche navigando in generale certo certo perché noi ragionavamo sull'asfatto di andre sì però sì delle cose non sono fatte bene c'è qualche dark pattern però in linea generale un po di etica c'è non è nulla di stravolgente no alla fine ti fa scegliere ai banner liberi tra l'altro banner che ne escono molti perché se vai a calcolare ne sono usciti 5 6 o 7 quindi ti sei abituato a quella quella fase lì e arriviamo al fatto che io divento utente prime tra l'altro mi prendono i soldi perché sono passati 30 giorni chiedo che non lo fanno anche se non l'ho poi utilizzato però vabbè comprensivo che tra l'altro lì youtube io ti avevo detto pensavo fosse mensile poi scopro che era annuale beh esatto mi ricordo questa questa cosa come 2023 ma è mensile annuale cos'è mi hanno legato per un anno per un errore mi hanno legato per un per un anno andiamo a vedere la parte più interessante secondo anche secondo me l'annullamento ecco l'annullamento perché perché vado un attimo dietro sì sì provano in tutti i modi cerco di bloccarlo eccolo quando si fa l'annullamento bisogna andare qui manca la parte del traffico tu devi andare nel tuo account premio andare nel tuo diciamo nel tuo profilo sì e c'è una voce rinuncia a eccetera quindi tu di lì dirai vabbè che ecco ed è andato inizia la navigazione sei sicuro perché perderai tutti i tuoi sconti se annulli ora non potrai accedere ai vantaggi prime per il tuo prossimo viaggio conferma di voler rinunciare i vantaggi disattivandoli tutti cosa vuol dire questo matt che innanzitutto che l'ultimo testo che hai letto io credo che lo leggeranno in poche persone ma che devi fare un grandissimo sforzo proprio è come se ti togliessero una parte di te e stai rinunciando uno per uno ai vantaggi te li stanno proprio facendo estirpare usando una metafora cosa che tu sei costretto a fare e vabbè uno sforzo cognitivo messo lì apposta sono anzi tre sforzi cognitivi ma anzi sono i primi tre sforzi cognitivi di una lunga serie che tu devi obbligarti a fare pensando anche che le persone solitamente hanno anche uno poco tempo non poco tempo poca voglia di spendere tempo per fare le azioni che o si aspettano di far veloci io sono comunque abituato e quindi prima quando tu vieni qua matte il mio pensiero è vieni per due motivi hai sfruttato l'account gratuito come leva quindi come prodotto di front end io mi sono preso lo sconto lo disattivo e ciao quindi questo ti fa già capire che magari non è usato benissimo no questa modalità certo che poi sono i numeri a lungo andare che fa la differenza o se no sono arrabbiato con la compagnia c'è qualcosa che non va esatto quindi arrivo qui e io vorrei fare tutto velocemente non voglio perdere tempo se io vengo vedo in un negozio perché mi hanno fatto arrabbiare io non voglio stare lì dentro no io me ne voglio andare e se questi qua iniziano a dirmi che per uscire io devo aprire una porta poi ne devo aprire un'altra un bottone poi devo cantare è chiaro che la difficoltà aumenta per fare un parallelismo e io devo fleggare e dire che lascio il 100% di sconti sui voli che lascio gli sconti sugli alloggi che non me ne frega niente della linea dedicata ogni giorno del servizio clienti e l'utilità mi porta a dire mantengo i vantaggi perché fino adesso ti hanno abituato che il tasto pieno è quello che ti evita un'azione indesiderata quindi ti evita di aggiungere un'assicurazione ti evitava anche adesso non ricordo altre cose insomma ti faceva fare la scelta senza problemi e invece la scelta etica quando si parla di dark pattern si parla di essere etici quindi di lasciare all'utente la libertà e questa qui non è libertà io devo fare delle azioni che io li le posso anche comprendere ma di default l'usabilità mi porta a mantenere tutti i vantaggi esatto quindi rinuncio ai vantaggi ok però se avessero mantenuto il pattern che noi speravamo mantenessero a livello etico precedentemente noi ci saremmo trovati rinuncio ai vantaggi blu grande e vuoto l'altro o esattamente il contrario di quello che si vede ora in realtà ci hanno abituato a dirci che il ci crea un'azione vantaggiosa e quindi io avrei cliccato mantieni vantaggi ma io non clicco mantieni vantaggi io rinuncio ai vantaggi non è finita no perché aveva mi dicono ti restano ancora 11 mesi con prime sei sicuro di voler accedere forse non hai capito dopo tutti gli sforzi che stai facendo che quello che tu stai facendo è una cosa che non ti porta vantaggi ti faccio un esempio cioè milano catania guarda quanti soldi risparmi ok cioè 12 euro 10 euro quant'è 7 euro 7 sì è una delle poche volte dove sono veramente chiari probabilmente qui ti fanno proprio una tabella quello che è e quello che potresti avere non ho visto almeno in questa navigazione una chiarezza così grande è vero è vero e ti fa vedere anche netta no tutto blu del prime chiaro i prezzi grandi gli sconti a fianco eccetera eccetera quindi ti direi scritta che ricerca effettuata nel mese di marzo 2021 i prezzi riferiti alla tariffa esclusa gli extra chiaramente una scritta che non leggerà praticamente nessuno ma in questa schermata cosa faccio mi invitano con un altro dark pattern a mantenere i miei vantaggi ma io ho già detto che non li volevo mantenere i miei vantaggi mi state ridicendo che io devo mantenere i miei vantaggi e io cancella il mio abbonamento che è diverso da prima che era rinuncia qui tu cancelli e tu dirai e quindi è finito e invece no andrea non hai finito perché ricevi un promemoria invece di annullare non ti preoccupare ti invieremo un promemoria 30 giorni prima del termine del tuo abbonamento prime così potrai sfruttare al massimo i vantaggi fino alla fine sì giusto ti dicono è inutile che butti via 11 mesi già pagati cioè chi mai farebbe una cosa del genere come se presso una macchina e poi la butti dopo qualche mese però tecnicamente io perché io so già abbiamo già fatta questa navigazione io non perdo l'account perché io l'account l'ho già pagato ce l'ho già per 12 mesi ma mi stanno dicendo mi alludono al fatto che io in questo modo lo perdo tranquillo se lo mantieni potresti scordartelo ma ti mandiamo un promemoria via mail 30 giorni prima 30 giorni prima che tu diresti ah vabbè ma c'è tutto il tempo per annullarlo se me lo dai 5 giorni prima c'è una grande possibilità che io non annulli se me lo dai 30 giorni prima vedo la mail dal fare l'azione perso mi è già preso l'altro anno e infatti io avevo poi provato se ti ricordi l'altra navigazione da da utente esterno senza aver già comprato prime perché qui era già passato l'abbonamento e non mi dava questa opzione giusto nei 30 giorni non mi diceva ti do un promemoria rimane nei 30 giorni mi faceva direttamente fare i tre passaggi quindi siamo al terzo passaggio terzo sei sicuro che vuoi cancellare io sì voglio cancellare non voglio nessun promemoria aiuto ancora quarto non potrai usufruire di un altro periodo di prova cancellando l'iscrizione non avrai più diritto a un'altra prova gratuita di dreams prime mantieni prime anche qui altro dark pattern blu cliccato mantieni e conferma la cancellazione chiaramente non il risalto cancello finalmente la mia cancellazione puoi godere dei vantaggi prime fino alla scadenza del suo abbonamento faccio qui tu hai avuto pazienza anche perché dovevamo fare questo video però io sfido così fatico è così faticoso annullare questo abbonamento ed è una cosa che tante aziende pensano anche in riferimento alle newsletter quando c'è la disiscriviti tante aziende pensano che continuare a provare dire ma sei sicuro davvero vuoi togli ma guardati magari rimani ancora un po' sia una cosa positiva invece no io credo che il più grande consiglio che possiamo dare lasciate le persone che non vogliono restare nella vostra cerchia insomma assiduire il vostro brand andare via poi allora potrebbero essere o no non le persone giuste quindi non in target oppure è molto meglio come ci vittu con l'esempio molto carino del negozio lasciare uscire poi casomai uno torna non è mai non è mai tutto definitivo uno poi magari tramite passaprola tramite perché ha visto una dv qualcosa magari si ricomince beh quasi quasi torno e cosa gli rimane gli rimane comunque un ricordo positivo di come era stato trattato delle dell'esperienza appunto nessun altro fluida fluidamente possiamo dire così in modo fluido e torno anche in moto altrettanto sereno certo che che uno degli aspetti fondamentali lo so che probabilmente un po controcorrente quello che diciamo perché si tende sai fare recupero carrelli poi vabbè i business di per sé nel back end vengono gestiti nelle maniere più disparate no ognuno vuole recuperare carrelli vuole recuperare i clienti vuole riuscire a bombardarli scelte libere certo a me sembra che costringere un cliente ad averlo a restare cliente se non vuole secondo me sono troppe energie focalizzate nella direzione sbagliata io preferisco focalizzare le energie nelle direzioni migliori no che portano che sono più fruttuose meglio dare più assistenza secondo me al cliente già cliente che è soddisfatto certo e pressare quello che non è un cliente soddisfatto pensando oggi fargli cambiare idea eccetera eccetera perché non è facile purtroppo la prima impressione fa tanto tantissimo tantissimo qui abbiamo ancora un pezzo qui abbiamo un pezzo perché perché io ho fatto annullato eccetera eccetera stesso momento non era cambiato niente sì l'unica differenza è che questo era già un account prime stessi voli stessi giorni se non mi ricordo male e i prezzi erano un'altra volta diversi tre euro tre euro fatto subito perché come hai visto è stato fatto subito stesse destinazioni e ho riprovato un'altra volta perché volevo capire se cambiasse qualcosa erano tre euro e tre euro giusto sì e mi ritrovo dieci euro e 43 anche qui la storia si ripete nel senso il pattern ormai l'abbiamo imparato a conoscere per bene tasti pieni mi fanno fare azioni eccetera eccetera seleziono l'azione più più corretta questo lo leggi per forza per forza non ci non non si esce anche qui qua per esempio mi dice è uscito il banner sì a differenza di prima di che mi dice accedi sì accedi perché è ok hai fatto il passaggio del volo ma c'era ma scusami ma io avevo appena finito di fare la navigazione a dire che non ero più nel mio account perché l'ho già loggato mi devo riloggare ma esatto anche perché io noto che in alto a destra sembri loggato sembro loggato esatto infatti vedi che mi dà andrà già col passeggero i dreams prime me lo dà già di default no che strano ma questa veramente c'è non capisco come possa essere funzionale una cosa di questo genere ormai siamo un po bias noi nel senso che l'abbiamo navigato e visto tante volte sarebbe veramente da farlo curare a qualcuno che non lo conosce sì sì ma infatti la cosa la cosa interessante è proprio questa no anche qui continuo senza l'assistenza si va avanti tutto quanto devi chiaramente dire di no fare continuo ai 00 cosa scegli 00 o 00 e questo non me lo riesco a spiegare se costa anche 0 il allora almeno qua abbiamo i 10 43 che erano quelli di prima e poi abbiamo un prezzo triplicato esattamente esattamente sempre con questo pattern velato sempre con 100 per cento 77 per cento e 10 e 32 e ribadisco era 3 euro e 3 euro sì questa cosa veramente allora probabilmente funziona perché i temi sei una società piuttosto solida e affermata certo certo che notiamo una navigazione davvero che porta confusione e non porta almeno a nostro avviso serenità sì sì io noi io penso che di questo io e te ci eravamo già confrontati è bellissimo cioè le aziende sono fatte di numeri e sono fatte profitti però c'è sempre un però secondo me che c'è una linea sottile dove puoi scegliere di fare le cose in una maniera più più pulita e più etica mettiamola così verso il cliente io capisco che uno debba massimizzare il profitto perché fare impresa nella tecnicamente vuol dire quello a dire perdere soldi però più consapevolezza cioè fare un'usabilità corretta di un sito per quanto per quanto mi riguarda per quanto ci riguarda deve essere una struttura che permetta all'utente di raggiungere facilmente le informazioni che vuole scelta è chiaro che puoi cercare di lo sappiamo che distribuendo i pesi in una pagina a livello visivo possiamo dargli la possibilità di seguire un flusso fatto bene magari che sia più funzionale però è una linea sempre sottile e non è l'unico di dreams che ha diciamo questi dark pattern così forti ribadisco anche altri altri portali uno degli commerce più grandi del mondo li ha certo non è che stai dicendo niente di che però qua sembrano parecchio parecchio insistenti qua poi finisce la navigazione con l'acquista ora eccetera eccetera a cosa ci possiamo legare per chiudere questa cosa che passa di qua no figurati se abbiamo terminato la navigazione torniamo a noi sì torniamo a noi perché la navigazione è terminata eccoci come possiamo chiudere questa cosa perché c'è un dettaglio che poi noi siamo andati a verificare facendo una piccola una piccola ricerca su sul cliente andando a vedere quali fossero le recensioni e abbiamo notato chiaramente che forse anche per via di questi diciamo pattern un po così di navigazione purtroppo queste cose controbilanciano un po le recensioni sì la qualità percepita sì la qualità percepita perché su un sito cercabile come traspilot c'è la possibilità se vuoi lo possiamo anche condividere ah sì poi perché ce l'avevo tra le schermate certo allora ti ricondivido te lo condivido subito che è questo questo qui dimmi se lo vedi ah ok allora adesso perfetto sì che si trova una ricerca semplice non abbiamo fatto niente che questo dato però ci ha fatto riflettere perché noi abbiamo moltissime recensioni 106 mila abbiamo il 50 per cento di recensioni eccezionali quindi 56 mila persone che dicono che il servizio è eccezionale però chiaramente salta all'occhio la barra in fondo il 30 per cento della navigazione che sono 30 mila persone che dicono che è scarso e questa questa è molto buono accettabile mediocre sommate non fanno questo e le motivazioni abbiamo visto noi abbiamo fatto appunto questo approfondimento sono legate talvolta o se non molto spesso proprio a fattori economici barra di customer care insomma chiamiamole così perché tu hai vissuto in prima persona questa cosa e questo fa pensare perché allora spesso si tendono a nascondere anche in un e commerce le recensioni negative ma è un errore perché comunque dimostrare che c'è qualcosa anche che chiaro a tutti non può piacere tutto è normale sta nel mondo è comunque una cosa buona e c'è anche un'altra cosa che pochi ci pensano io magari leggo delle recensioni negative poche recensioni negative magari le lamentelle che ha un cliente su un prodotto sulle caratteristiche posso non averlo io cioè mi spiego meglio non mi piacciono non mi piace non so l'aereo non mi è piaciuto perché i corridoi sono stretti ma magari mai dei corridoi stretti non mi interessa nulla quindi non è che sia sempre negativo dimostrare comunque qualche punto di debolezza è che qui abbiamo il 30 per cento di punti di debolezza noi ci siamo fatti delle domande no abbiamo detto ok questo cosa vuol dire vuol dire che sicuramente un'azienda è fatta da cose positive cose negative ed è normale che sia perché non si può piacere a tutti si più riesce a tenere un range alto di recensioni positive meglio è di sicuro non curare degli aspetti come il customer service e come l'usabilità e la percezione di cui prodotti soprattutto se sono come questi che sono prodotti solamente digitali c'è uno store dove tu vai e contro la signorina c'è il rischio che magari ti risponda male tu qua fai una navigazione se solo con te stesso e i loro pattern se c'è una percentuale così alta di di scarsità è perché hai un tipo di navigazione che è molto polarizzante quindi ti prendi un pubblico magari un po più facile e un altro te lo perdi per strada ok il gioco vale la candela questo non lo sappiamo dire noi di sicuro se un'azienda dovesse mai chiedermi di fare di adottare delle politiche diciamo dubbie o spinte mettiamolo così che forse spinte più corretto spinte esatto io gli direi di valutare valutare bene valutare bene perché perché poi ti puoi ritrovare contro altare vero più utile perché hai più clienti eccetera eccetera ma le recensioni portano indirettamente altri clienti e qui non hai il 70 per cento di recensioni positive e il 10 per cento di recensioni negative qui hai 50 30 eh sì infatti mi fai anche pensare che non ho visto alcuna recensione sul sito è una cosa che neanche utilizzano proprio non era mai stato citato come concetto cosa che solitamente si fa insomma è una leva è una leva notevole perché ti dico guarda come ho soddisfatto anche lì se uno volesse dire qualcosa potrebbero prendere come noi siamo in grado di manipolare l'usabilità potremmo tranquillamente dire quante sono qua ci hanno scelto più di 56.209 persone messo da qualche parte che ci hanno ritenuto eccellenti ok questo qui sarebbe stato una grandissima leva in qualche punto è chiaro che avrebbe creato una grandissima aspettativa ma quando io a confrontarlo avessi incontrato il contro altare che questo mi sarei fatto qualche domanda perché 30.000 persone dicono che c'è qualcosa che non va no sì sì sembra quasi mi fai pensare che è come se prendessero sempre clienti nuovi sempre adesso è un'esagerazione ma che puntassero più sui nuovi clienti che sul mantenere un cliente per tanti anni non so se sei d'accordo con me certo proprio perché ci sono questo comunque 30 per sento che sono sono tanti insomma come avere appunto sì sono tanti se tu clicchi su questo livello di 10 clienti di sui 10 clienti immagina 10 clienti tuoi andrea tre parlano malissimo di te certo non va bene questa cosa assolutamente ma poi tutti tutti ambigui che dicono che c'è qualche cosa che non va o chiaramente sono loro esperienze nessuno ti dice ti dice nulla ho incontrato anche qualcuno che si è ritrovato a debito esattamente come me l'ho visto passare sì che era sì a questa altezza qualcuno che diceva diceva qualcosa del genere ovviamente uno non guarda solo scasso perché guarda anche l'eccellente non ci mancherebbe no nessuno vuole evidenziare nulla sono sono spunti di riflessione no sono spunti utili che ci devono essere secondo noi quando valuti delle azioni perché chiaramente lo studi sull'utente lo studi sul cliente e già io utilizzo due parole differenti perché un utente è uno che finisce sulla piattaforma è uno che ha acquistato almeno una volta tecnicamente quindi da tenere in considerazione è fondamentale ogni azione che si fa è da tenere sempre in considerazione perché controbilancia un fatturato ma può controbilanciare anche un'esperienza un'esperienza negativa assolutamente e io sono davvero curioso di lasciare anche chi ci ci guarda chi guarda il video di provare di provare a prenotare un volo magari solo di fare una ricerca anche senza senza iscriversi a nessun prime se magari c'è un dubbio appunto come ce l'abbiamo avuto noi perché può essere davvero interessante e magari paragonarlo anche ad altre esperienze sì certo certo cioè poi noi non abbiamo fatto un'analisi dicendo così non va bene poi non ci sono alternative in tanti passaggi c'erano delle alternative dove si poteva usare qualche leva che non era obbligata era libera in tantissimi dei passaggi che hanno fatto sì c'era una ci sono alternative quindi non è un flusso che funziona solo così è chiaro che implicitamente se è così è perché funziona probabilmente per loro a conti fatti però è giusto fare un'analisi obiettiva a 360 assolutamente perché come dicevi giustamente ci sono numeri ok dalla parte da una parte ma ci sono anche emozioni dall'altra ecco forse possiamo chiudere così andiamo così è vero assolutamente bene beh allora andrea secondo me è stata un'esperienza davvero davvero interessante grazie anche per avermela proposta perché io non conoscevo allora conoscevo l'azienda ma non ero mai probabilmente capitato mi piacerebbe fare una cosa fare la stessa esperienza su altri siti molto simili di competitor per vedere come c'è un po' possiamo prendere sicuramente in considerazione anche per riuscire a creare un po' un parallelismo no tra portali e vedere cosa c'è di utile magari qualcuno ha delle azioni anche migliori che potrebbero essere introdotte no questo è il bello poi delle 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 navigazioni delle esperienze utenti esatto io ho fatto avevo navigato qualche una volta c'è anche un video di obb che è la compagnia appunto esatto di treni che poi parte passa insomma per l'italia va in terre germaniche e anche pregonandolo con avevo fatto un paragone io in italia e comunque adesso vado in svizzera e quindi ho usato anche quelli ci sono lì più che altro è quanto è facile e quanto tradisce o meno delle aspettative anche banalmente un calendario il calendario di dream secondo me è fatto molto bene ma non sempre non sempre è un elemento che ti porta emozioni positive è certo esatto non è un aspetto fondamentale ma sicuramente ci saranno altre occasioni per guardare qualcosa altro insieme sì sì volentieri volentieri quindi io ti ringrazio ancora grazie a tutti grazie a te matte alla prossima allora alla prossima ci vediamo alla prossima esperienza ciao ciao a tutti